Terribile incidente ieri sera sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria fra gli svincoli di Battipaglia e Ponte Cagnano Sud. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, provocando poi un tamponamento a catena. A perdere la vita, a seguito del violento impatto, Francesco Spera, 62enne, originario di Giffoni Secasali, ma residente a Ponte Cagnano Faiano. Sul posto, immediato l'arrivo della polizia stradale, della Croce Bianca di Salerno e dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto la vittima dall'abitacolo della sua vettura, completamente distrutta. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne avrebbe perso il controllo dell'auto scontrandosi con un'altra in transito e provocando successivamente un tamponamento a catena. Sei invece i feriti, tutti trasportati in condizioni non gravi presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.